oggi vi voglio parlare di un sacco di cose anche se l'italia non è più ai mondiali sudafricani e quindi questo bea d'africa è poco italiano e quindi sarò telegrafico allora intanto vi devo dire che sono orgoglioso del tricolore voi penserete ma è impazzito il tricolore sì perché sto parlando del tricolore messicano la squadra del messico è stata eliminata ieri dall'argentina di maradona e messi ma è stata eliminata in modo dubbio nel senso che l'argentina è formidabile per certi versi per certi altri è stato formidabile il furto che il messico ha subito e si è comportato però benissimo per tutta la partita è uscito con grande orgoglio ha salvato più che la faccia ed è esattamente quello che in fondo si chiedeva agli italiani di salvare almeno la faccia di battersi di essere sì eliminati se dovevano essere eliminati se altri erano più forti ma insomma giocando fino in fondo e con tutte le forze è esattamente quello che ha fatto il messico e quindi tanto di cappello ma è anche esattamente quello che ha fatto l'inghilterra nel pomeriggio di ieri l'inghilterra di capello presa tanto in giro perché ridotta sembrava alla stregua degli italiani non è alla stregua degli italiani dei francesi l'inghilterra ieri poteva pure passare il turno anche se poi alla fine ha perso 4 a 1 le è stato annullato un gol enorme un gol dentro un metro nella porta che se fosse stato annullato all'italia avrebbe suscitato dibattiti più di quelli che stiamo facendo in questi giorni su brancher è quella cosa ridicola che sapete quindi tanto di cappello anche agli inglesi onore al merito anche agli inglesi che hanno una difesa dubbia che fa acqua che prende gol che si è trovata di fronte alla germania viva giovane viva esattamente quello che vorremmo dagli italiani dopo quattro anni dal mondiale vinto e che però ha reagito aveva pareggiato e anche l'idea che quel gol annullato faccia il paio con il gol dato buono 44 anni fa nella finale germania inghilterra può far incuriosire dal punto di vista storico far arrabbiare gli inglesi come giusto dal punto di vista diciamo pratico e far misurare la differenza fra il calcio del 66 quello di aller urst e arst e gli altri ante gli altri e il calcio di oggi cioè i passi indietro sul piano della qualità del gioco e dello spettacolo fatti in 44 anni un'ultima cosa una delle poche cose avanzate in questi 44 anni è naturalmente la disponibilità tecnologica in tribuna c'era il presidente della fifa sepp blatter già è un omatopeico sua blatta è un insetto questo signore questo svizzero padrone del calcio mondiale ha sempre detto no no alla moviola o ai miglioramenti tecnologici ecco vedere un pallone dentro di un metro vederlo noi alla televisione e non e dover pagare il dazio che non l'ha visto l'arbitro i guardialine e come del resto in argentina messico l'arbitro rosetti aveva fatto l'endese una figuraccia italiana ricordate che quello del di lazio fiorentina di cinque anni fa del gol del rigore non dato su mani di zauri ebbene casualmente è per carità è tutto casuale ebbene vedere il pallone dentro dicevo a giovane a dove dove si è svolto a blasfontein il l'incontro germani inghilterra con blatter in tribuna che è contro la moviola fa ridere e questi mondiali oltre a interessare a inorgoglire anche gli sconfitti spesso fanno ridere